MINGHIE MI FACCIO UNA SEGA MI FACCIO UNA SEGA MI FACCIO UNA SEGA MI FACCIO UNA SEGA Lascio a far partire il commentary Qui ci spariamo tutte seghe Non vi solitare più questo messaggio Mi tocca chiuderlo per la seconda volta Carcola che ho fatto già il video però Ho fatto vedere il codice prodotto come ritardato del cazzo Anche se vabbè L'ho fatto anche adesso ma Praticamente Taglierò Ok siamo Velocemente qui Sulla finestra dell'Oggs E ragazzi se questo video Non supererà Le visualizzazioni di PewDiePie Praticamente esploderà il mondo Perché è 30 giga sto gioco Quindi mortacci vostro votate Adesso stiamo accedendo Al profilo della Rockstar Bello c'è chiudere sta merda Partite al cronometro Madonna Già siamo a un minuto di video Comunque vi dicevo Il video 30 Eh sì il videogioco 30 gigabyte Carcola che ho iniziato a scaricare Le 4 pomeriggie Ha finito A E11 Io ho fatto Da E4 pomeriggie A E11 A giocare a San Andrea Per bruciare tempo Perché non sapevo davvero Comunque impostazioni Grafica tutta a stecca Con una GTX 680 1080 pixel Speriamo che non scoppia il computer Anche se esplode pure quello di mio padre Me taglie bene Allora storia Continua Ma che continuo Sì vabbè Ho fatto un piccolo pezzetto da solo Ho andato leggermente avanti Leggermente Tipo al capitolo 3 e 4 del genere E Mi ha detto un amico Che dura abbastanza poco Adesso finisce Oh Mortacci 2 Mortacci 2 Te mori coglione Te mori coglione Te mori coglione Ok Questo qua lo pio in pieno Mori coglione Oh lolololol Ok qui Totally swag Mamma mia Terribile Triple Blablabbia Già mi hanno ammazzato Ma non ho fatto neanche caso alla vita Iniziamo Riprova Vediamo un po' di fare un commentary Che si aggiri Ha una durata Cristiana E non Burdiana Like Just Zada Oh Non scherzo Cristo Non muore nessuno Eh Infatti mo metto sto coso qua Stabesia Ciao Mamma mia Dat miraz Tatatatatatata Mamma mia Teribile la mira Mamma mia Che datte Shot Che io ho fatto a questo Ciao Te che sei De me la godo Ciao Ciao Oh basta Queo rallentatore Mamma mia Killcam Su sto gioco Killcam Allora qui non so Quello che devo fare Perché non sono più Andato avanti appunto Sto stronzetto Lo sa com'è Asi Io mi fido Io mi fido Ricarica l'arma Non dovevo andare Ah Magari se lo seguiamo La 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 Da che taglio Ma in giro che la pistola Si è in mano a K47 Anche se nella realtà Pesa di figli Oddio Enemies 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 Quindi Cazzo Ha fatto scattare tutta l'arma Con l'altro Mortaci Mamma mia Mamma mia Mi prenderanno Nei fazze Nei fazze Nei fazze Ragazzi sono i fete No sono i fazze Sono i fete Oh è morto Mamma mia Add the shot Zabbice Oh devi morire Magari se superamo Bravo Che è sta roba Ah vabbè Kirkham osuosa Pensavo che ti sapessi irritare Ma ti scavalchiamo Non pensi che ti serva una mano? Vabbè ma veloce O così via fuori in video De cinquanta minuti Andiamo amico Mi cacci Agi Amico Qui siamo Nigga Nigga stole my bike Dovremmo stare più tranquilli Adesso arriveranno Una mandria di nemici Comunque il frame Rate non vi so dire Mi pare che ieri stava Fanno tantina Appunto Stiamo tutto in ultra E si Va molto molto bene Infatti pensavo Che con sto quad Questo gioco moriva Perché ho visto Dei pezzi Che GTA 4 Pesa molto In grafica Forse perché non è stato Prestanzionato bene E invece Cioè ci sono rimasto Ci sono rimasto Va molto bene 70 frame 80 Insomma sono accettabili Poi stiamo col quad Calcolando che con l'i7 Per i 3 ad che ha Farei più frame E ve lo dico per certezza Perché ne ho la prova Di Battlefield Con la 590 I7 quad Quindi Sono sicuro che Farebbe di più Questa scheda video Con il mio procio Si è detto il gruppo Che si fa chiamare Pla 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 Mamma mia Per il resto del gioco E tutta la storia Che ho sto stronzo vicino Che mi aiuta Quindi Si Vi dirò Vi farò sapere Quando ritorno Al 3930k No più che altro Il processore sta qua Forse lo sentire Eh Scatola col processore dentro E la scheda madre Credo che Stia tornando Perché comunque È passato un mese Perciò Vediamo un po' Cosa succederà Penso che se me la fanno Ripaccaggio Ci piscio sopra Non credo che la riprendi Cioè se la Se devo ripagare Forse prenda P9x79 Tranquilla tranquilla Molto Svogheggiante Pasch Da madre Questi sono 4 ore Che stanno su sto scafetto Del cazzo Mh hanno un po' rotto Le coglioni Te pare che Non ci devastano Le mascelle Comunque la storia Da quello che ho capito Praticamente Tu facevi la guardia Del corpo A una festa E praticamente Era una festa Di VIP Con tutti gli ricconi Pieni di soldi Praticamente Rapiscono due ragazzi Di cui uno riesce A salvarla Che era Poi la sorella Mi pare O la ragazza Di un coglione Che Ti stava accanto Per un pezzo De storia E adesso Stanno cercando Oh ma Oh ma avete rotto Li coglioni Paffa Come salta sto cosa In pausa Non posso saltare Ehm Praticamente Stanno cercando L'altra ragazza Che ovviamente Non si sa Se è viva Comunque vi dicevo Prima Non mi ricordo Se non ho completato Il discorso Mi ha detto Un amico Che sto gioco Dura molto poco Quindi Ci sarà una Bista serie Forse Su Max Payne Infatti Non so perché Già vi sto facendo Vedere un capitolo Vabbè Mamma mia Che posto marcio Bluff Madonna Marcio l'acqua Dai Mamma mia Che poi Sicuramente Sto gioco Su Xbox Dovrebbe essere Quel download Qualcosa del genere Qui invece Tutto in alto Tutto in oltre Mamma mia Ragazzi Ma PC Xbox Sono Ah io ho detto Tutte Xbox E Playstation Sono meglio Mamma mia L'altro giorno Mi è arrivato Un commento Che Diceva che La prossima generazione Di console Raggiungerei 60 frame Su Battlefield E Anche in ultra Vabbè Ma io ne faccio 150 De frame Che ragionamento Dove devo andare Mamma mia Sei terribile Esamina l'elicottero Ce l'aveva portati Nel posto giusto Era l'elicottero Il comando Sembra scappato Vabbè Vabbè Nel night club Dov'hanno rapito La ragazza Devo andare qui Eh già Mamma mia Che posto Mi sento Proprio far Credere Lontano da casa Non sapevo fare altro Mamma mia Come parla questo Bla 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 Che devo No Sparare Oh ma non c'è sta Un nemico Io ve lo fanno Un po d'azione Te registri i commenti No Se nascondono Non vogliono essere Fragati su youtube Devo rimediare E subito Dai apri la porta Che dentro C'è sta Partner con Machinima Soldoni Ciao Possibile che non Ho un cazzo Un nemico Per developramerate Assurdo C'è Dixory Action mi dice 30 Perché Sto registrando E ti dice 30 Non è che ti dice Il framerate Dovevi aprire anche Fraps Mettere due tasti Diversi O se si vede Il framerate E Action No Beh action Non lo vedere Quel colosso di carne Su una barca Quel colosso di carne Vedi questo è convinto Che Fabiana Era leggermente Più avanti Quindi in questo capitolo Dovrei trovare Sta puttanella Solo che siamo arrivati A 10 minuti Arriviamo a un quarto d'ora Ciao Ciao Una volta stavo Visto la silenziata Solo mi hanno sentito Da tutto Il mondo Colpa mia Mori Coglione L'ho visto Mamma mia Date Headshot Assurdo Comunque Questo gioco è bellissimo Perché davvero Il rallentatore È una cosa che hanno In poche Poi Sinceramente Non so dirvi Della storia Perché Max Payne 1 e 2 Non ho mai avuto La fortuna Di provarli Dovrebbero essere Proprio Best game ever Year edition Mamma mia Quando ti parlano Spagnolo Ecco l'altro Iniettale Mi chiamano Superata Guarda che hanno fatto La festa Era nuova Dezeca Vabbè se sta in garanzia Dai Se può fare Da che l'ha trovata Da che l'ha trovata Oh questi quasi Stano Voi scelte Un sigaro Vabbè Gli ha chiesto C'è una sigaretta Credo Ma che me l'ha stacchiata A me A me sta via Per culo Ma che è uno scherzo Che cazzo Dove faccio È morta C2 Mamma mia Da Cristo Vediamo se riesco A trovare Un stronzetto Da fare azione Quella in certo Che è assurda È bellissima Morta C2 Bellissima Poi gli è saltata La carne Ma che cazzo Niente Sono montato Sulla scatolone Vabbè La 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 Dove devo andare La 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 Ok Non potevo fermarmi Speravo di trovare Fabiana Prima O poi Cioè poi Porca Mi stava rilassata Mi stava a stirare Morta C2 La 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 Ciao Qui non c'è nessuno Ma che cazzo È un botto De capodanno Via AK47 Ma non lo ho Vabbè Sti Oh Ma che è Worst mira Del 2002 Madonna Comunque Motale da facile È troppo Cioè Muori Però Cristo Non te piglia No Lol Un colpo Un morto Qui stiamo Su Black Coppe S4 Ciao Basta Mortecci Tu Ok Basta Tranquilli tutti Questo c'è la pompa Stiamo per arrivare Un quarto d'ora Veloce Voglio spoilerare Il più possibile Per tanti Non mi piace Che cosa fa? Ok Dai che ho trovato Fabiana Dai Qua cazzo Quella era la segna di quella legata L'avevo mancata L'avevo mancata per poco Cioè Questo qua sta per sparare qua La voglioncella Mortacidoso 5 ore che gioco Che va sta a cerca Poi va a sparare Ma ti giuro C'è sto bov de merda Dove vanno Proviamo su pelle scalette La 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 Eh sì dai Porta semi aperta Popo sicuro Paradegionare Menina mortaciduose Pruta Eh salta Non scopo Eh ho detto niente Dai su Vadoci a spara a tutti Tanto Molina facile Eh dai dai Sono solo quattro Spari a qui i due Eh questi qua Poi spari all'artitua Quanti so Uno due tre Quattro cinque Se l'altri due Se ne donnavi Veste fidever Non c'è un Barile de merda A cui sparare La dietro Mortaciduose Niente Non è esploso Ma che me stabbia per culo Oh oh Mortaciduose Oh 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 Mori Coglione Mori Ok Che sono morti tutti no? No Ah Proprio Bucare la carne Tutorial HD 1080p Zels Ultimo Che c'è sto a pensare Sto a registrare 720 o 1080 Non so Vabbè poi faccio Anzi no Non è che faccio Lo sapevo Vedete dal rendering Perché io Tengo sempre Renderizzo sempre La risoluzione A cui registro Tiè Pah Cioè hanno proprio Come obiettivo Adoro gli è Dal centro Quindi si Dovano far tutti Indizili Foto di famiglia Del branco Esaminata Ma che cazzo No Non ho ancora Allentatore Ok Siamo arrivati a un quarto D'ora 15 minuti Toons Sono arrivati a 15 minuti Toons Ok Vediamo di Fare un'altra azione Sistrocheggiante Per far saltare un po' di test Cos'è? Ma cos'è? L'arma d'oro Non ce l'ho Non me l'ha data Oh Vabbè Non devo andare qui? Vabbè Allora se devo Cercare Il posto No Fermiamo qua anche Perché appunto Vi bello Voglio fare la serie Ragazzi Mettete tanti I bei like Guardate che pure Max Payne È tutto arrapato Vedete che Basta Ok Ci sbecca al prossimo video Ciao 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 Ciao